Siamo con coach Yuri Valente della Subaru Olimpia, fine settimana a mar, è arrivata una sconfitta contro Cogoletto. Forse avete pagato la troppa inesperienza contro un gruppo esperto con maggiore esperienza? Sì, sicuramente. C'è mancato quello. Loro hanno due giocatrici che sono di categoria superiore sicuramente, nei due ruoli fondamentali, palleggiatore libero, e hanno due schiacciatrici che sul momento dove non c'è da sbagliare non sbagliano e noi siamo giovani, ci abbiamo messo qualche errore di troppo, ma l'atteggiamento e il recuperare sotto di 2-7 mi è piaciuto, quindi soddisfatto in parte perché poteva arrivare almeno un punticino. Settimana prossima sfida forse ancora più difficile contro Lunezia, squadra a punteggio pieno in lotta per il campionato. Sì, andiamo a Lunezia che è sicuramente una delle due insieme a Norma che si giocherà la proporzione in B2. Oggi ho visto il video e ho preparato la partita, è una squadra con giocatrici molto forti, di alta categoria, però noi andremo là giocando a viso aperto, come si dice, vendendo cara alla pelle il più possibile. Poi il risultato si vede. Poi il risultato si vede.